A Brescia, in provincia di Brescia, i carabinieri hanno arrestato e fermato un pakistano trentenne perché è legato al fondamentalismo islamico. Pakistano che è stato espulso qualche mese fa, l'ordine di espulsione non è stato ottemperato e quindi questo per dire che cosa? Che l'islam, che il terrorismo purtroppo ce lo abbiamo in casa, la gente che è a casa ci chiede qual è la risposta a quello che sta accadendo e la risposta purtroppo non c'è, non c'è la risposta da parte della comunità internazionale non c'è la risposta da parte dell'Europa, Lady Pest dov'è? La Mogherini, Federica Mogherini non c'è e la risposta da parte del governo italiano è assolutamente latente, non c'è, non c'è risposta al terrorismo che abbiamo in casa da parte del governo che dorme abbiamo un governo che sta dormendo su questo problema